Sulle politiche dell'immigrazione, i governatori hanno incontrato Minniti e Maroni si è detto non soddisfatto, dicendo forse Minniti rispetto all'incontro vostro in prefettura ha fatto una marcia indietro, qual è la sua idea? Non ho partecipato, io ovviamente ieri non so, so che rispetto al CIE io dico quello che ho detto tempo dietro, al di là che Minniti non ha detto mettiamo un CIE a Milano, il mio punto è CIE bene ma decontestualizzato da un piano nazionale ha poco significato, quindi il mio invito ancora è affrontare questo tema in maniera più organica a livello nazionale. Grazie, arrivederci. Grazie